Aggiornamento da Israele. Iran ha elogiato il massacro dell'organizzazione terroristica di Hamas contro i cittadini israeliani. Il Ministero degli Esteri Ucraini ha condannato gli attacchi dell'organizzazione terroristica di Hamas contro Israele ed ha espresso sostegno per il popolo israeliano. L'organizzazione terroristica di Hamas ha fatto un fascino per mondo islamico per attaccare Israele. Ci sono dozzine feriti colpi arma da fuoco e razzi razzi lanciati dalla striscia Gaza che si sono rivolti agli ospedali Soroka della Birra Sheva e Barzole Ashkelon. I più seri sono ospedalizzati immediatamente mentre quelli che hanno ferite medie sono attualmente si trasferì negli ospedali del centro israeliano. Israele ritiene che l'Iran è responsabile del massacro dell'organizzazione terroristica di Hamas. Non è escluso che una grande regionale sia iniziata con un funzionamento terrestre nella striscia. Gaza. Al fine di occupare territori palestinesi per creare un'area sicurezza. Il portavoce militare Israele ha reso noto che dozzine aerei da combattimento israeliani hanno colpito 17 composti militari e 4 centri comando operativi appartenenti all'organizzazione terroristica Hamas nella striscia Gaza. Sotto l'aggiornamento audio direttamente da Israele firmato da Michael Sfaradi. Leggi il live live qui.